Cari pellegrini, l'11 aprile del 1903 moriva Santa Gemma Galgani. Ebbene, a Santa Gemma Galgani si attribuiscono queste parole. E la diceva così, se tutti gli uomini si studiassero di amare il vero Dio, questo mondo si changerebbe in paradiso. Cioè, se tutti gli uomini si impegnassero ad amare il vero Dio, quindi la verità, questo mondo si cambierebbe in paradiso. Ora, diciamolo francamente, sono parole molto, ma molto semplici e anche molto chiare. Possiamo dire che più semplice e più chiaro di così non si può, ma anche più scontato di così, perché è tutto perfettamente logico. Come è il cammino dei tre sentieri, lo ripetiamo continuamente. Qui non si tratta di inventare nulla, né di fare chissà che cosa, bensì di ribadire che bisogna amare e conoscere il vero Dio, che è quello cattolico, perché non ce ne sono altri. E inoltre, se si lavora affinché il mondo intero assapori, assapori, la bellezza della verità cattolica, tutto si può trasformare e tutto si trasformerà. Certo, senza nessuna illusione utopistica, infatti la società perfetta ci sarà solo alla fine dei tempi, mai potrà esserci nel già e nel non ancora della dimensione temporale, perché è evidente che fino a quando non ci sarà la seconda venuta di nostro Signore Gesù Cristo saremo sempre in una dimensione di perfettibilità, mai di perfezione. Ma di sicuro, di sicuro, a noi compete quello sforzo che nella nostra piccolezza possiamo e dobbiamo compiere, cioè amare, far amare e far conoscere prima e far conoscere la verità cattolica, quindi far conoscere per poi far amare la verità cattolica. Solo questa verità, come dice Santa Gemma Galgani, può tramutare tutto in Paradiso, perché solo questa verità può connotare di bellezza ogni cosa. E quindi, torno a ripetere, qui non si tratta di fare imprese titaniche, non si tratta di organizzare chissà che cosa, ma ognuno di noi deve impegnarsi, prima di tutto attraverso se stessi, ovviamente, e poi cercando di comunicare e quindi di convincere gli altri, deve impegnarsi a far conoscere e a far amare la bellezza della verità cattolica, perché più anime saranno conquistate alla verità cattolica, e quindi all'amore nei confronti del vero Dio, e più il mondo si trasformerà in Paradiso, non che si realizzerà di fatto il Paradiso sulla Terra, ma sarà sicuramente il mondo più conforme alla volontà di Dio, e questo determinerà un senso di profonda consolazione in tutti gli uomini. E' questo l'impegno che dobbiamo prenderci per lasciare ai nostri figli e ai nostri dipoti un mondo che sia sensibile alla legge di Dio. Bene, cari pellegrini, terminiamo qui, vi saluto sempre caramente ricordandovi che Dio è verità, bontà e bellezza.